Affrettare l'opera di compilazione della storia familiare e il lavoro di Tempio è essenziale per la salvezza e per l'esaltazione delle famiglie. Poco prima della sua morte per cancro avvenuta nel 1981, il controverso scrittore William Siroyan disse alla stampa, tutti devono morire, ma ho sempre pensato che nel mio caso sarebbe stata fatta un'eccezione. E adesso? L'espressione, e adesso, quando si affronta la morte e quando si contempla la vita dopo la morte, è il fulcro delle domande dell'anima a cui il Vangelo restaurato di Gesù Cristo risponde così meravigliosamente nel piano di felicità del Padre. In questa vita ridiamo, piangemo, lavoriamo, ci divertiamo, viviamo e poi moriamo. Giobbe chiese in maniera succinta, se l'uomo muore, può egli tornare in vita? La risposta è un risonante sì, grazie al sacrificio espiatorio del Salvatore. Parte dell'ampio preambolo di Giobbe a tale domanda è interessante. L'uomo, nato di donna, vive pochi giorni, spunta come un fiore, poi è reciso. Per l'albero almeno c'è speranza. Se è tagliato, rigermoia e continua a mettere rampolli. E rinverdisce, mette rami come una pianta nuova. Il piano del nostro Padre Celeste riguarda le famiglie. Molti dei nostri passi scritturali più toccanti usano come analogia il concetto dell'albero con le sue radici e con i suoi rami. Nel capitolo conclusivo dell'Antico Testamento, descrivendo la seconda venuta del Salvatore, Malachia usa tale analogia in maniera vivida. Parlando degli orgogliosi e dei malvagi, egli fa notare che essi saranno bruciati come stoppia e che non lascerà loro né radice né ramo. Malachia chiude questo capitolo con la promessa rassicurante del Signore. All'alba della restaurazione, Moroni enfatizzò nuovamente tale messaggio nelle prime istruzioni che diede a Joseph Smith nel 1823. Cristiani ed ebrei di tutto il mondo accettano il racconto di Elia nell'Antico Testamento. Egli fu l'ultimo profeta a detenere il potere di suggellamento del sacerdozio di Melchisedec prima dell'epoca di Gesù Cristo. Il ritorno di Elia avvenne nel Tempio di Kirtland il 3 aprile 1836. Egli dichiarò che stava adempiendo la promessa di Malachia e consegnò le chiavi del sacerdozio per suggellare le famiglie in questa dispensazione. La missione di Elia è agevolata da quello che viene spesso definito lo Spirito di Elia, che come insegnato dall'anziano Russell M. Nelson, è una manifestazione dello Spirito Santo che porta testimonianza della divina natura della famiglia. Il Salvatore sottolineò la necessità del battesimo. Egli insegnò se uno non è nato d'acqua e di spirito non può entrare nel regno di Dio. Il Salvatore stesso fu battezzato per dare l'esempio. E che dire delle persone defunte che non sono state battezzate? A Nauvoo, l'11 ottobre 1840, Velaide Kimball scrisse una lettera a suo marito, l'anziano Heber C. Kimball, che stava servendo una missione con altri membri dei dodici in Gran Bretagna. La conferenza generale di ottobre era stata tenuta alcuni giorni prima. Cito una parte della lettera privata di Velaide. Abbiamo assistito alla più grande e interessante conferenza che vi sia mai stata da quando la Chiesa è stata organizzata. E il presidente Joseph Smith ha introdotto un nuovo e glorioso argomento, ossia l'essere battezzati per i morti. Paolo ne parla nel versetto 29 del quindicesimo capitolo di Primo Corinzi. Joseph ne ha ricevuto una spiegazione più completa mediante rivelazione. Egli dice che è privilegio dei membri di questa Chiesa essere battezzati per tutti i propri familiari che sono morti prima che questo Vangelo venisse alla luce. Così facendo, agiamo come procuratori, dando loro il privilegio di levarsi nella prima resurrezione. Egli dice che il Vangelo verrà loro predicato mentre si trovano nella prigione. Velaide aggiunse voglio essere battezzata per mia madre. Non è questa una dottrina gloriosa? La dottrina fondamentale della possibilità di unire le famiglie venne alla luce linea su linea e precetto su precetto. Le ordinanze per procura sono il fulcro dell'azione volta a saldare insieme famiglie eterne, collegando le radici e i rami. La dottrina della famiglia in relazione alla storia familiare e al lavoro di Tempio è chiara. Nelle prime istruzioni rivelate il Signore fa riferimento al battesimo per i vostri morti. Il nostro dovere dottrinale è verso i nostri antenati. Il motivo di ciò è che l'organizzazione del cielo è fondata sulla famiglia. La prima presidenza ha incoraggiato i membri, specialmente i giovani e i giovani adulti, a compilare la storia familiare e a svolgere le ordinanze per i nomi della loro famiglia o per i nomi degli antenati dei membri del loro rione e del loro palo. Dobbiamo essere collegati alle nostre radici, ma anche ai nostri rami. Il pensiero di essere uniti nel Regno Eterno è davvero glorioso. Wilford Woodruff indicò che il profeta Joseph Smith visse sufficientemente a lungo per porre le fondamenta del lavoro di Tempio. L'ultima volta che incontrò i membri del Quorum dei dodici fu quando diede loro l'investitura. Dopo il martirio del profeta, i santi completarono il Tempio di Nauvoo e il potere di suggelamento venne usato per benedire migliaia di fedeli membri della Chiesa prima dell'esodo verso Mountain West. Trent'anni dopo, quando venne completato il Tempio di St. George, il Presidente Brigham Young rimarcò l'importanza eterna di avere finalmente a disposizione le ordinanze di salvezza sia per i vivi che per i morti. Questo principio viene dichiarato chiaramente dal Presidente Wilford Woodruff. Non c'è quasi principio che il Signore abbia rivelato nel quale gioisca maggiormente rispetto a quello della redenzione dei morti, che nel mattino della prima resurrezione nel Regno Celeste avremo con noi nell'organizzazione familiare i nostri progenitori, mogli e figli. Questi sono principi grandiosi che valgono qualsiasi sacrificio. Che epoca grandiosa in cui vivere! Questa è l'ultima dispensazione e possiamo sentire l'affrettarsi dell'opera di salvezza in ogni ambito in cui è prevista un'ordinanza di salvezza. Ora abbiamo dei templi in gran parte del mondo per fornire tali ordinanze di salvezza. Inoltre frequentare il Tempio al fine di rinnovarsi spiritualmente, ricevere pace, protezione e guida nella nostra vita è una grande benedizione. Meno di un anno dopo essere stato chiamato come apostolo, il Presidente Monson dedicò la biblioteca genealogica del Tempio di Los Angeles. Egli parlò di antonati defunti in attesa del giorno in cui voi e io faremo la ricerca necessaria a liberare il passaggio e similmente andremo nella Casa del Signore a svolgere tale lavoro che essi non possono svolgere. Quando il 20 giugno 1964 l'allora anziano Monson fece tali osservazioni nel corso della preghiera dedicatoria vi erano soltanto 12 templi in funzione. Durante il periodo in cui il Presidente Monson ha servito nei consigli più alti della Chiesa 130 dei 142 templi hanno ricevuto la loro prima preghiera dedicatoria. Non è nulla di meno che un miracolo vedere l'affrettarsi dell'opera di salvezza nei nostri giorni. Altri 28 templi sono stati annunciati e si trovano in varie fasi di ultimazione. L'85% dei membri della Chiesa adesso vive a poco più di 300 chilometri da un tempio. La tecnologia per la compilazione della storia familiare è cresciuta sensibilmente. Nel marzo del 1995 il Presidente Howard W. Hunter dichiarò abbiamo iniziato a servirci della tecnologia informatica per affrettare la sacra opera di fornire le ordinanze per i morti. Il ruolo della tecnologia è stato accelerato dal Signore stesso. Tuttavia siamo soltanto agli inizi di quello che possiamo fare con questi strumenti. nei 19 anni trascorsi da questa dichiarazione profetica l'accelerazione dello sviluppo tecnologico è stata quasi incredibile. Una madre 36enne con dei bambini piccoli di recente mi ha detto e pensare che siamo passati dalla lettura di microfilmi in appositi centri di storia familiare alla possibilità di sedere al tavolo della cucina per compilare tramite il computer la storia familiare dopo che i bambini sono finalmente andati a dormire. Fratelli e sorelle ora i centri di storia familiare si trovano nelle nostre case. Il lavoro di tempio e di compilazione della storia familiare non riguarda solo noi. Pensate a coloro dall'altra parte del velo che attendono che le ordinanze di salvezza li liberino dalla schiavitù della prigione spirituale. La definizione di prigione è una condizione di limitazione o cattività. Coloro che sono in cattività potrebbero porsi la domanda fatta da William Saroyan e adesso una fedele sorella ha condiviso un'esperienza spirituale speciale avuta nel tempio di Salt Lake mentre si trovava nella stanza delle confermazioni a seguito di una confermazione per procura e l'ha udito e il prigioniero sarà liberato e l'ha sentito un grande senso di urgenza verso coloro che stavano aspettando che il loro battesimo e la loro confermazione venissero celebrati. Dopo essere tornata a casa ha cercato nelle scritture la frase che aveva udito nella sezione 128 di Dottrina e Alleanze ha trovato la dichiarazione fatta da Joseph Smith che il vostro cuore gioisca e sia estremamente lieto che la terra prorompa incanti che i morti esclamino inni di eterna lode al re Emanuele che ordinò prima che fosse il mondo ciò che ci avrebbe messo in grado di redimerli dalla loro prigione poiché i prigionieri saranno liberati. La domanda è che cosa dobbiamo fare? Il consiglio del profeta Joseph fu quello di presentare nel Tempio un libro contenente le registrazioni dei nostri morti che sia degno di essere pienamente accettato. La dirigenza della Chiesa ha emanato un fervido appello esortando la generazione nascente a essere una guida nell'uso della tecnologia per sentire lo spirito di Elia per ricercare i propri antenati e per svolgere per loro le ordinanze del Tempio. Gran parte del lavoro più duro per affrettare l'opera di salvezza sia per i vivi che per i morti sarà compiuto da voi giovani. Se non soltanto andranno al Tempio per fare i battesimi per loro morti ma lavoreranno inoltre con le loro famiglie e con gli altri membri del rione per fornire i nomi per il lavoro di Tempio che svolgono sia i giovani di ogni rione che la Chiesa saranno grandemente benedetti. non sottovalutate l'influenza che i defunti possono avere nell'assistervi nei vostri sforzi e la gioia di incontrare un giorno coloro che servite. La benedizione eternamente rilevante di riunire le nostre stesse famiglie va quasi al di là della nostra comprensione. Attualmente tra tutti i membri della Chiesa del mondo il 51% degli adulti non ha inserito entrambi i propri genitori nella pagina Albero Familiare di FamilySearch il sito internet della Chiesa. Il 65% degli adulti non ha tutti e quattro i nonni inseriti. Ricordate senza le nostre radici e i nostri rami non possiamo essere salvati. I membri della Chiesa devono ottenere e inserire queste informazioni vitali. Finalmente disponiamo della dottrina dei templi e della tecnologia tramite cui le famiglie possono compiere questa gloriosa opera di salvezza. Suggerisco un modo affinché ciò possa essere fatto. Le famiglie possono tenere delle riunioni di famiglia dedicate ad albero familiare. Tenere tali riunioni dovrebbe essere un impegno ricorrente. Ognuno può portare racconti di famiglie esistenti, storie, foto e oggetti preziosi posseduti dai nonni e dai genitori. I nostri giovani sono entusiasti di scoprire la vita dei membri della loro famiglia, da dove sono venuti e come sono vissuti. Molti hanno volto il proprio cuore ai padri, amano le storie e le foto e hanno le competenze tecnologiche per scannerizzarle e caricarle su albero familiare per poi collegare la fonte di tali documenti agli antenati al fine di preservarli per sempre. Certamente l'obiettivo primario è quello di determinare quali ordinanze devono ancora essere svolte e di assegnare dei compiti per compiere il lavoro essenziale di tempio. Il libretto La mia famiglia può essere utilizzato come ausilio per registrare informazioni sulla famiglia, storie e foto che possono poi essere caricate su albero familiare. Le aspettative e gli impegni di famiglia dovrebbero essere in cima alle nostre priorità per proteggere il nostro destino divino. Per coloro che stanno cercando di rendere la domenica più produttiva dedicandola a tutta la famiglia affrettare questo lavoro diventa un terreno fertile. Una madre racconta raggiante che a sua figlia di 17 anni dopo le riunioni domenicali in chiesa si siede davanti al computer per compilare la storia familiare che suo fratello di 10 anni adora ascoltare le storie e vedere le foto dei suoi antenati. Ciò ha benedetto l'intera famiglia facendo sentire lo spirito di Elia. Le nostre radici e i nostri rami preziosi devono essere nutriti. Gesù Cristo dia della sua vita compiendo un'espiazione per procura. egli fornì la risposta alla domanda sollevata da Giobbe egli vinse la morte per tutta l'umanità cosa che noi non avremmo potuto fare da soli. Tuttavia possiamo svolgere le ordinanze per procura e diventare veramente dei salvatori sul monte Sion per le nostre famiglie affinché noi assieme a loro possiamo essere esaltati e anche salvati. Rendo testimonianza del sacrificio espiatorio del Salvatore e della certezza del piano che il Padre ha per noi e per le nostre famiglie. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.